preludio music library è pensato apposta per le tue esigenze in questo video vedremo come puoi creare una playlist che noi abbiamo chiamato progetto all'interno dello spazio my project e condividerla con i tuoi collaboratori o con i tuoi clienti ogni volta che effettuiamo una ricerca potremmo avere necessità di mettere da parte qualche brano che riteniamo interessante per il nostro progetto a disposizione abbiamo la cartelletta dei progetti cliccandoci sopra possiamo stabilire questa traccia o di inserirla all'interno di un progetto preesistente oppure possiamo anche creare un nuovo progetto dandogli un nome o una descrizione inseriamolo in questo progetto dopodiché nello spazio my project qua in alto a destra abbiamo tutti i nostri progetti entrando all'interno di un progetto troveremo la selezione delle tracce che abbiamo individuato possiamo mettere in ordine di cinque dieci cinquanta o cento brani per volta in questo caso sono otto tracce che ci appaiono tutte quante qua la cosa interessante di dei progetti è il fatto che scendendo in basso possiamo anche volendo caricare un video e vedere tutte le otto tracce di questo progetto associate automaticamente a quel video per capire se possono essere efficaci per quel video stesso qui in alto a destra vedete il link pubblico questo è un link che possiamo inviare ai collaboratori o ai clienti addirittura senza necessità che essi siano registrati nella piattaforma vedranno una playlist come questa con le otto tracce in ordine alfabetico numerate con un numero e quindi potranno dire mi piace la 1 la 2 la 4 e così via